La settimana della Federal Reserve è arrivata, la banca centrale americana alzerà il costo del denaro. Cosa succede per indici, materie prime e azioni? Ce lo dicono i protagonisti di House of Trading. Sì, anche nel mio caso abbiamo una carta verde, anche nel mio caso abbiamo una strategia rialzista e questa volta di essere scelto è uno dei grandi colossi di piazza affari, assicurazioni generali, che recentemente per bocca del Presidente Sironi ha confermato i target, ha ribadito che in presenza di un incremento dei prezzi sono pronti ad aumentare i prezzi delle polizze, quindi potranno adeguare quelli che sono i loro prezzi all'inflazione, quindi restare con confermare gli attuali livelli di marginalità e nel caso del grafico di assicurazioni generali nelle ultime sedute abbiamo assistito a un test della Media Mobile a 50 giorni. A sostenere corsi c'è anche la trendline, questa ottenuta dai minimi del 21 luglio e dell'8 settembre, quindi riteniamo che ci possano essere delle opportunità rialziste per questo titolo. Il livello è da 14,95, quindi di poco sotto i 15 euro, con target 15,65 e uno stop loss a 14,2 euro. Anche in questo caso il rapporto rischio-rendimento è sostanzialmente uno a uno, è sostanzialmente equilibrato. Ti è piaciuta questa strategia? Bene, iscriviti al canale BNP Paribas, attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dei trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17.30 a House of Trading. Anche in questo caso